Promosso in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano. Viraforst vi augura buona visione di 2M al quadrato. 2M al quadrato ci porta oggi all'imbocco della Val Venosta. Siamo a Parcines di sopra, siamo ospiti del Dursterhof e adesso Stefan, il proprietario, ci sta raggiungendo per farci scoprire i segreti di questo bellissimo posto. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Ciao Stefano, bene, andiamo? Andiamo? Andiamo, ciao. Ciao Stefano, a bola! Fino adesso abbiamo visto all'esterno cosa offre il Dursternhof con la sua magica atmosfera Dursternhof, che però anche al suo interno nasconde una incredibile sorpresa. Ci vorrà oltre un anno per scoprire cosa si nasconde dietro questa porta. E questo nuovo lavoro che Stefano dietro questa porta, lo vediamo in un anno. Bis zum nächsten Mal bei 2M2. Grazie a tutti.